Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in un nuovo test mod, test mod per console e per PC. Parliamo del bellissimo New Holland T5, mamma mia, ma non un New Holland normale così, ma un New Holland con la livrea del centenario, finalmente approdato su console. Questo ce lo avevamo noi da PC lo scorso anno, ma non lo avevano gli amici di console, e per fortuna quest'anno invece approdato anche da voi, cari amici consolari, che spettacolo, che spettacolo. Quindi, ciancia le bande, banda le ciance, dobbiamo assolutamente iniziare a spulciare questa meraviglia. Dove la troviamo la meraviglia? Beh, dentro a veicoli, trattori piccoli, perché comunque è un trattore di bassa cilindrata, eccolo qua, T5 Series, il T5 mancava già di default, quindi già era una mod che mancava e ho sentito molti che la volevano. Peccato che manca il T5, non c'è il T5, eccolo qua ragazzi, eccolo qua, T5 Series, 83.000 euro di prezzo base, con 120 cavalli di potenza massima. Ma andiamo a vedere le configurazioni. Innanzitutto c'è la marca delle gomme, Trelleborg, Chilen, Continental, Mitas, VKT, Redstain, Nokian, con le rispettive configurazioni. Quindi si va dai pesi ruote ai pneumatici larghi, ai contrappesi, ai pneumatici stretti, doppie ruote posteriori. Insomma, ragazzi, ce n'è per tutti i gusti, ok? Quindi sarete sicuramente soddisfatti a livello di ruote, non vi mancano insomma le ruote. E poi Design, il Design possiamo sceglierlo così, di default, standard, oppure Blue Power. Blue Power, vedete? Ci sono quasi tutte le configurazioni del T5, Fiat Power e Standard. Ovviamente, poi queste sono colorazioni di design che dovete scegliere in base al colore del trattore, alla livrea del trattore. Mi spiego meglio. Ad esempio, configurazione motore, potete scegliere il T5 100, il T5 120, il T5 120 Blue Power, e allora voi andate di Blue Power, sul design, capito che voglio di? Oppure il T5 120 Centenario e allora andate su Fiat Power. Vedete? Quindi, a secondo del tipo di configurazione motore che voi scegliete, dovete applicare il design. Ma non è finita. Non è finita perché dovete anche applicare il colore. Perché potete cambiare il colore principale sia del corpo sia della cabina. I colori sono Blue Special, Blue Chiaro, Marrone, Special 2 e Nero. Più o meno le colorazioni sono queste. Standard lo lasciate così, standard. Blue Power mettete design Blue Power, mettete motore Blue Power e come colorazione mettete speciale. Vedete? Sia della cabina che del corpo del trattore. Poi, se invece scegliete Centenario, dovete andare su Fiat Power come design. E colore principale dovete mettere marrone. Eccolo qua. Vedete? Questa è l'edizione Centenario. Oppure lo Special 2 cromato, se proprio vi piace il cromato. Ma sinceramente a me non mi piace. Questa è la configurazione più carina per quanto riguarda il Centenario. Anche quella originale. E poi andate su colori cerchioni se volete. Potete scegliere gli grigi, beige, argento e nero. Ad esempio, a me con la colorazione Centenario, mi piacciono tanto beige così. Quindi potete sbizzarrirvi come vi pare a livello di colorazioni. Però sappiate che le principali sono quelle che vi ho detto io. Quindi Blue, Blue Power e Centenario. Spero di avervi chiarito al meglio le varie configurazioni di colore. Potete anche scegliere il caricatore frontale. Caricatore frontale no. Caricatore frontale hour. Potete scegliere solo l'hour. Però, ecco qua, c'è volendo l'opzione caricatore frontale. Ma vogliamo salire sull'edizione Centenario e sentire il sound? Vai, accendiamolo. Avete visto tutte le spie sul cruscotto che si accendono? Ve lo riaccendo anche da fuori che si sente meglio il sound. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Poi, ovviamente, vedremo anche le luci in notturna. Adesso vi volevo far vedere tutte le animazioni interne. Andiamo a fare un giretto perché ci sta, ci sta di vedere l'interno di questa meraviglia. Mi sto facendo ascoltare il suono. Scendiamo il lampeggiante. A momenti mettiamo sotto il cerbiato lì. Bellissimo, raga. Bellissimo. E andiamo a vedere anche l'illuminazione di questo spettacolo, di questo gioiellino. Innanzitutto iniziamo con l'interno dove vi faccio vedere e vi mostro l'illuminazione del cruscotto. Questi sono i fari semplici, quelli standard. Questi sono i fari supplementari. E poi abbiamo anche dei fari dietro. Guardate tutte le luci del cruscotto e guardate l'illuminazione. Fari anteriori, fari posteriori e fari supplementari. Praticamente, ragazzi, un lampadario vivente. E per la prova su campo daremo una passatina di erpice rotante. Così lo vediamo anche al lavoro e lo vediamo anche sotto sforzo. Guardate che spettacolo. Guardate come lavora bene. Questo è stato un campo coltivato e noi ci stiamo passando una botta di rotante per fare il letto di semina. E quale miglior trattore se non il nostro bellissimo T5 Centenario? Guardate come lavora bene. Praticamente manco lo sente. Neanche lo sente. Siamo al limite con la potenza perché questo Alpeco vuole 120 cavalli. Ma lui neanche li sente i 120 cavalli. Cioè, va proprio dritto come una spada. Guardate che robina. Guardate che robina. Un po' decap view perché va sempre molto professional. Scusate se prediligo l'edizione Centenario ma io penso anche voi su console anche voi su console penso che andrete pazzi per questa edizione Centenario, per questa livrea qua. Veramente bella, bella, bella. Ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare 5 stellette. 5 stellette perché queste mod meritano veramente il nostro supporto e la nostra riconoscenza, insomma, verso i modder. Perciò 5 stellette alla mod e un bel like al video, ragazzi. Supportiamo streamer e modder, ok? Io vi ricordo che in descrizione ci sono tanti link, tra cui anche quello dell'altra piattaforma dove sono in live tutti i giorni. E se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis. Il link è per comprare i giochini scontati di System Gaming, affittare server nitrato e per acquistare tutto quello che riguarda farming dalla mia affiliazione Giants per aiutarmi a raggiungere la partner Oro che è ancora lontana ma non impossibile. Poi ringrazio gli amici abbonati di questa piattaforma. Anima vita a cuore del canale, consente al canale di sostenersi, di andare avanti e di portare tutti, tutti, tutti questi contenuti. Io amici vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!